La decisione è stata quella di ridurre il tempo di accensione, quindi si accende un'ora dopo e si spenge un'ora prima, ma si lasciano tutte le lampadine accese nelle strade perché la riduzione di illuminazione comporta dei rischi e quindi delle responsabilità da parte dell'amministrazione. Posticipato l'orario di accensione ed anticipato quello di spegnimento della pubblica illuminazione, smart working, poi il venerdì per ridurre il consumo di energia elettrica negli immobili pubblici, così anche Palazzo Cavallo fa fronte al caro energia. Risparmiare energia in tutti i sensi, sia da un punto di vista economico per pagare meno bolletta ma anche per giustamente impiegarne di meno di energia, quindi ridurre il riscaldamento, quindi un giorno il comune rimarrà chiuso, il venerdì in particolare, ovviamente esclusi quei servizi che comportano contatto con la cittadinanza o la manutenzione o altri e la riduzione degli orari di accensione della pubblica illuminazione sulle strade e anche ovviamente una raccomandazione ai nostri uffici di batare bene quando si lascia l'ufficio nei 4 giorni lavorativi a questo punto di spegnere tutte le luci. Si procederà poi allo spegnimento dell'illuminazione nei parchi pubblici a mezzanotte e verrà limitata anche la durata di accensione delle luminarie natalizie. Per quanto riguarda invece la chiusura degli uffici riguarderà solamente quelli che non debbono fornire necessariamente servizi all'utenza in presenza per tutti gli altri co-working. Cioè in modo tale proprio da cercare di ottimizzare i propri consumi termici ed elettrici, questo è un po' l'obiettivo che dovrebbe poi sostanziarsi in dei risparmi importanti anche dal punto di vista economico e per il bilancio. Si tratta di misure provvisorie al momento valide dal 15 novembre al 15 marzo 2023. Sulla base di uno scenario peggiore, cioè peggiore per le casse comunali, mi sembra sia circa 300 mila euro l'ipotesi di risparmio, perché il grosso è la pubblica illuminazione ovviamente.